È una situazione molto ingarbugliata in promozione per l'unico posto play-off rimasto disponibile. Dato che infatti la semifinale tra seconda e quinta in classifica non verrà disputata per il distacco al momento di 13 punti e che dunque ad una giornata dal termine non può scendere al di sotto dei 10, l'unico posto disponibile per accedere agli sparieggi è il quarto, che se la vedrà con il Paulisi già sicuro della terza posizione. Al momento il Baiano con 49 punti ha ben saldo il quarto gradino, ma San Martino, Forza e Coraggio e Vissariano tenteranno il tutto per tutto nelle rispettive gare, come afferma anche Mario Silvestro, tecnico degli Ufitani. Si preannuncia l'ultima giornata di campionato un po' in linea con l'equilibrio che ha contraddistinto l'intera stagione. Sappiamo che la gara si gioca fondamentalmente in contemporanea su tre campi perché ritengo che la forza e coraggio non avrà problemi a battere l'FC Avellino, il San Martino penso sia fuori al momento, quindi la partita si gioca tutta tra la nostra gara, quella del Paulisi a ponte e quella tra Grotta e Baiano. Noi ovviamente dobbiamo andare in campo innanzitutto provando a fare il massimo per vincere una gara che sarà complicata contro un avversario tosto che con il ponte si gioca la posizione migliore per la disputa del play-out e quindi dovremo prima dimostrare noi di essere in grado di andarci a prendere i tre punti a Mugnano, poi vedremo quello che sarà accaduto sugli altri campi, però questo ovviamente se noi non prendiamo i tre punti, non portiamo a casa la vittoria, ovviamente tutto quello che faranno le altre sarà superfluo. Una stagione da incorniciare, quella della Vis, una matricola partita per salvarsi e che in quest'ultima giornata si gioca l'accesso agli spareggi. Ha fatto un plauso ai calciatori dell'Ariano perché a boccia ferme all'inizio della stagione nessuno credeva in questa squadra, davano tutti quanti accreditati un po' l'Ariano per lottare per i bassi punti della classifica, invece con il lavoro, l'abnegazione, l'unità di intenti, i sacrifici, i ragazzi sono stati bravi a tirarsi su e ora ovviamente sono arrivati all'ultima giornata potendosi giocare qualcosa di importante, quindi poi ovviamente le cose vanno valutate con tranquillità e quindi al di là di quello che potrà accadere domani, sicuramente è una stagione molto positiva. Grazie. Grazie.